Non so qual è il suo gioco, ma sta mettendo in pericolo la vita di Nicky. Non doveva farmi incazzare. E adesso devo fermare Damien. Stavolta ci incontreremo. Di persona. Alla vecchia maniera. Hai forse qualcosa per me? Vedremo. Oh, Aiden. In tal caso, scelgo io il posto. Non ho i dati. Damien lo capirà immediatamente. Ma forse per me è un vantaggio. Ha promesso alla Bloom di consegnare tutto quello che abbiamo, incluso ciò che Iraq ha su di loro. Si è... si è cacciato in un bel casino. Tu non hai i miei dati, io non ho tua sorella. Siamo prevedibili, eh? Hai fatto un patto con la Bloom. Come lo sai? Hai un problema. Hai un problema, Damien. la tua vita, la tua vita dipende da quel punto. Se uccidi, Nicky, non avrai niente da me. Credi che la Bloom ti lascerà in pace? manderanno dei fixer per farti fuori. Quindi adesso il tuo destino dipende da me. Passami mia sorella. Noi siamo partner, Aiden. Ti piaccia o no? Hai bisogno di me. Aiden! Tutto ok? Stai bene? Ho paura. Ti prego, dimmi che Jackson è al sicuro. Sì, sta bene. Nicky, se ti... Lo so. Per favore, non lasciare che... Psst. Sai una cosa, Aiden? Non sopporto che tu non mi prenda sul serio. La prossima volta, se non mi porti i miei dati, lei è morta. Non sopporto che tu non mi prendi i miei dati, lei è morta. Non sopporto che tu non mi prendi i miei dati, Lei è morta.